La carriera allenatore col Fulham torna live domani a partire dalle 14, tutto questo sul mio canale Twitch, quindi vi aspetto domani ore 14, link in descrizione. Ben ritrovati, l'episodio scorso totalmente, ma totalmente, totalmente da dimenticare, è stato uno scempio, cioè veramente abbiamo preso sberle ovunque, segnato pochissimo, abbiamo fatto solamente un gol, da quel che ricordo, solamente uno con l'Adresville, poi perso 3-0 col Meeble, perso 2-0 contro la City, in Coppa siamo usciti ai rigori contro il Bolton, pareggiato 0-0 con lo Stock City. Adesso è marcato, adesso cercheremo di migliorare la squadra, nonostante abbiamo pochi soldi da poter investire, noi magari quasi quasi andiamo a diminuire il budget stipendi, aumentiamo un attimino quello per gli acquisti, direi di lasciarci così, 19 mila, 19 milioni, scusate, di euro per il mercato, con i giocatori che stiamo seguendo, saremmo, direi di sì, direi di sì, bello veloce, bello reattivo, in realtà ci mancava la velocità in difesa. Possiamo provare a prendere Volezzi dal Nordjeland, dai, andiamo, proviamo, proviamo, proviamo. Allora, offerta del cartellino, andiamo di 800, esattamente il valore del giocatore, basta, poi facciamo 830 perché siamo gentili, dai, 9 e mezzo, dai, ti aumento di 100 mila il valore, buono, hanno accettato, perfetto, quindi 950 mila, adesso vedremo un attimino il contratto, sono le ultime ore di mercato, quindi tecnicamente possiamo anche andare a realizzare, a finalizzare altri colpi, intanto uno in difesa lo volevo, uno veloce in difesa lo volevo, lui, stiamo parlando comunque di un giocatore molto giovane, attualmente molto scarso, vediamo se può crescere, è una scommessa, ma è una scommessa che la possiamo tranquillamente fare, visto che stiamo parlando comunque di un giocatore che guadagna pochissimo. Stipendio molto basso, lo stipendio molto basso, poi con 10 presenze, 52 mila, no, penso che quello sia un bonus in realtà, dovuto poi a 10 presenze, va bene, dai, possiamo accettare, ci sta, piede destro, 1,90, 83 chili, ha anche delle caratteristiche, carisma leader, ma io direi che è un investimento su comare, glielo possiamo, ce lo possiamo concedere, vediamo un po', valore, 6 milioni, ne abbiamo però ancora di soldi, mamma mia, Joe Brian no, Joe Brian non rappresenta un titolare, però è la nostra prima riserva per il ruolo di terzino sinistro, quindi contro offerta, quindi rimuove i giocatori nello scambio, rinegoziamo offerta del cartellino, aumentiamo di poco ragazzi, non stiamo ad aumentare di molto poi le richieste, cioè la nostra offerta di base, almeno per ora, hanno accettato, molto bene, allora a sto giro voglio vedere quanto può chiedere, di stipendio il 35, 53, non poco, però lui effettivamente diventerà un titolare fisso per la nostra difesa, quindi 35, abbiamo detto 53, andiamo a trattare adesso il contratto del giocatore, e propongono loro, ma sì, ma sì, li abbiamo, li diamo, a posto, abbiamo completato dire il mercato in entrata, per il mercato ci sarebbe da ingalgiare almeno 3 giocatori con meno di 20 anni, con un potenziale superiore alla votazione media giocatori attualmente in quel ruolo, questa è una cosa che magari faremo quando e se andremo in premier, però in realtà 2 su 3 completato, quindi anche qui non siamo messi male neanche sotto quell'aspetto lì, ci manca solamente un acquisto per andarlo a completare. Alla fine, siamo messi benissimo, l'unica cosa che manca sono i risultati, cioè è il successo in patria, e questo attualmente è di priorità massima e sarà quello sul quale poi verremo poi giudicati, quindi non, cioè rischiamo di fare una brutta figura, oggi dobbiamo riprenderci assolutamente, dobbiamo iniziare a vincere. Il cambio modulo, questa è molto una cosa che uno mi dice, qua è il mio essere interista, va un po' a farsi bene dire, perché in realtà io volevo andare a importare il modulo del Milan, io me l'ho trovato bene con questo modulo qua, mi l'ho trovato bene, quindi ho detto per quale motivo non possiamo utilizzarlo con il Fulham, perché alla fine quei movimenti, questi giocatori alla fine li possono fare. Allora, pressing una volta perso il pallone, l'ampiezza la lasciamo così, la profondità la possiamo anche alzare almeno a 70, poi questo è il manovra, manovra veloce, questo ok, inserimenti offensivi, questo lo lasciamo, quello che volevo andare a sistemare erano le istruzioni riguardo i ruoli, ci facciamo un Robinson che spinge, o un Tete che spinge, forse è meglio un Robinson che spinge, quindi partecipa all'attacco che c'è già, vedi? Sì, 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 esattamente questo è il Milan, perché appunto qui è come se fosse appunto Teo Hernandez, che si va poi a formare una sorta di difesa 3, ma sappiamo che su FIFA e anche su FM sono cose molto difficili poi da poter andare a replicare. Supporto in difesa base, supporto in difesa base, ok. Squadra in campo, Fulham con la maglia nera, affrontiamo la quinta in classifica, spazio subito ai nuovi acquisti, al nuovo colpo in realtà, l'unico giocatore, anzi, l'unico titolare preso poi, elemento importante che abbiamo preso in questa ultima giornata di calcio mercato, ovvero Komar, mentre l'altro giocatore, quello del Norgeland, è diciamo un giovane che avremo modo di lanciare sì, ma con estrema calma, senza fretta, tanto comunque abbiamo pagato poco, 800.000 euro, quindi è un'operazione che anche se dovesse essere negativa non ci va a creare chissà quanti problemi. Bisogna riprendersi su tutto, riprendersi come risultato, quindi come vittoria, riprendere il reparto offensivo e quindi vedere e segnare gli attaccanti e soprattutto una difesa, una difesa che in realtà forse è l'unica nota positiva, perché nonostante, nonostante tutte le difficoltà, una difesa comunque con la presenza di rim non è eccezionale, però l'episodio scorso non abbiamo subito molto. Con classe Robinson, poi Reid, si esco, si gira col mancino, prima occasione pericolosa del Fulham, provano loro, tiro da fuori, Rodak, salve in calcio d'angolo no, perché Robinson riesce ad evitare il corner, riesce a servire addirittura Kebano, ancora il Black Bull, Reid, attenzione al tiro sporcato, al passaggio sporcato ne approfitta di prima l'attaccante del Black Bull, che peccato, qua è stato Reid purtroppo, Reid è stato gran protagonista in questi primi minuti, purtroppo il passaggio sporcato dal 6, andiamo a rivedere, eccolo lì, non forse dal 6 eh, ma vuoi dire che forse è stato Komar? Vediamo un attimino qua da questo rappello, non lo riusciamo a capire, o Komar o Reid? L'avevano intercettato quel passaggio lì, ma in realtà mi ha dato in confusione la difesa, e ne approfitta Aldin Turkes, adesso attaccano loro di nuovo col Fulham un po' in confusione, in questi primi minuti della ripresa, attenzione al mancino, e qui abbiamo rischiato grosso, ha ballato la nostra difesa, Belmonte, io a Belmonte l'allungo non glielo faccio più fare perché è incredibile, basta un tocco di Belmonte in più, intanto attenzione perché Turkes viene espulso, abbiamo visto un Fulham solamente nei primi 20 minuti del primo tempo, con 2 o 3 occasioni, poi il gol da parte Blackpool e la solita partita, che nonostante la subietà numerica dal minuto 55 non è servita assolutamente a nulla, perché da lì in poi non abbiamo effettuato alcun tiro in porte, quindi giusto perderla, giusto uscire da questa partita con 0 punti. La classifica ora come ora dite, ma dov'è il Fulham? Dov'è? Il Fulham è lì, solamente 3 punti, ma consapevole questa squadra, che con una vittoria, spero che possa arrivare presto, da lì in poi sono convinto che i risultati inizieranno ad arrivare, ci manca solo la vittoria, ci manca soltanto il risultato positivo, dobbiamo crederci ragazzi, dobbiamo crederci nonostante veramente tutti i problemi, è una squadra forse che ha preso la leggera troppo questa serie B inglese, questa championship, affrontiamo una squadra che anche loro non stanno andando benissimo in realtà, e nonostante tutto ho letto la formazione, hanno due o tre elementi molto forti, soprattutto il loro centrocampo. Tete, poi il rimpallo a favorire l'ex United, Komar, finalmente lo vediamo, Chong da dietro su Red, qui subito cartellino giallo. C'è Seri, attenzione perché ha spazio per andare a calciare Seri, infatti ci ha provato, ha fatto bene, poi Quigna, ancora Seri, lo spazio c'è, e in due tempi Truman a salvare. Sesco allarga molto bene per Wilson, 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 col destro, calcio d'angolo. Pallone in zona, Sesco di testa, vicinissimo il Fulham al 1-0. Sesco si gira, Sesco col destro. Birmingham non ci sta capendo assolutamente nulla, allora Sesco lancia Quigna, c'è Wilson, pallone largo, Wilson a incrociare col destro, il miracolo a parte di Truman, Komar, mamma mia Komar, sangue freddo Komar. Kebano è lì, Kebano ha servito, Kebano è in posizione interessante per andare a calciare, fermato all'ultimo, non è finita, è allora ancora Kebano, questa volta ci prova! Ne salta uno, in velocità ancora Quigna, avanza da solo. Mitrovic, il destro! Con l'host da parte di Luke Morse, segna Mitrovic la rete del 1-0, finalmente il Fulham torna a segnare. Vantaggio Fulham, difendiamolo, teniamolo, facciamo quello che volete, l'importante è portare a casa questi tre punti che mancano da tantissimo. Gran lavoro da parte di Quigna. E poi Mitrovic a difendere il pallone, e a calciare non con così tanta potenza, ma con tanta, tanta precisione. Mamma Mitrovic, ancora Mitrovic. Gli ho pallo in mezzo, il colpo di testa, Rodak con la parata laser. Allarghiamo per Kebano. Kebano va col destro, la parata non perfetta da parte di Truman. E poi in due tempi riesce a far su il pallone. Tiene palla Mitrovic, aspetta, arriva Wilson. Va per via centrale, adesso Wilson palla al piede. Wilson avanza da solo, ragazzi, che giocata da parte di Wilson, 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 Euro goal di Wilson! Euro goal di Wilson! E torna il Fulham a portare a casa tre punti, torna il Fulham a vincere, ma che giocata di Wilson! Wilson, 2-0! Per la chiudere, chi se ne frega! Non ce la facevo, stavo male, Olmo. Stavo male, va bene? Guarda qui Wilson, ancora una volta portiere sì da calcio scommesso, perché il tiro non era imparabile. Festeggia Wilson, festeggia il Fulham. Ragazzi, non ci crederete mai, ma questi sono ufficialmente i primi tre punti del campionato. Non avevamo ancora vinta una. Va che bello il Cottage, tutto esaurito per questa partita di Championship, con il 9 Mitrovic, che l'ha decisa nell'ultima gara, insieme al gol di Wilson, quel magico 2-0 contro il Birmingham. Dobbiamo continuare così, vedremo alla fine, sarà soltanto una questione di tre punti, sarà soltanto una questione di manca la vittoria, poi ci riprendiamo. Questa è la prova definitiva. Qui capiremo cosa può fare il Fulham, se ci ha preso in giro per 90 minuti, oppure se alla fine riusciremo a vincere anche queste, a trovare finalmente continuità, e magari da qui può ripartire, anzi iniziare ufficialmente la nostra stagione in questa Serie B inglese. Formazione che in parte andiamo a confermare quella che ha vinto nell'ultimo match contro il Birmingham, quindi Mitrovic titolare, Quigna, gran prestazione la sua, e poi Seri in mezzo al campo, non gioca Reed stanco, gioca invece Belmonte, Cavaliero, hanno bloccato i nostri attaccanti, allora Cavaliero decide di aspettare, c'è la sovrapposizione, da parte di Robinson, palle in mezzo per Mitrovic, posizione giudicata, regolare, e fa un super, super, super gol Mitrovic, 1-0 Fulham, mamma mia ragazzi, sbloccati, ci siamo sbloccati, ma si è sbloccato Mitrovic, allora ho aspettato un attimo prima di esultare, perché sinceramente, mi sembrava fuorigioco Mitrovic, però l'arbitro ha detto, tutto regolare, si gioca, e allora si gode tantissimo, questa semi rovesciata per Mitrovic, grazie, grazie della sub, ma però mi incazzo lo stesso, subiamo gol, attenzione, gol, l'ho detto, ho ricavato almeno una sub, gol per YouTube ragazzi, per YouTube, per YouTube, io lo sapevo, lo sapevo, qui abbiamo subito appena un gol per una rimessa regalata, ma come avete visto, c'è stata anche una sub regalata, quindi, si ringrazia Morker, ma è colpa di Morker, se ho subito questo gol, perché, io lo sapevo, e anche il mister, vedi, il nostro avatar dice, cavolo, sub regalata sì, ringrazio, gentilissimo, però gol subito, a che costo, Mitrovic, Mitrovic questa è tua, Mitrovic questa è tua, Mitrovic questa è tua, c'è invece la gran parata da parte di Rafael Cabral, avanza Zwift, ma soprattutto Joao, che trova il gol del 2-1, il reading passa in vantaggio al minuto 39, un buco, lasciato in difesa, con due giocatori sul portatore palla, sulla zona sinistra, e poi solamente uno a tenere Joao, e ha fatto un gran bel gol, giro palla lì, sui lati, che puntualmente ci manda in confusione, qua tutto regolare, gol di Joao, 3-1, niente, siamo crollati, partita prima vinta, senza problemi, questa, dal gol regalato, non siamo rimasti più in campo, Raid, Mitrovic, dentro l'area Mitrovic, col des, Robinson, serve la sua velocità, ma serve anche qualche giocatore del fullman, che possa avanzare, pochi giocatori che attaccano la profondità, Raid, ancora Robinson, ha spazio per mettere un buon pallone in mezzo, attenzione a questo colpo di testa, da parte di Mitrovic, Raid, va col mancino, 3-2, il fullman la riapre, 20 minuti ragazzi, per andarla almeno a pareggiare, ancora Wilson, ancora Mitrovic, ci va col mancino Mitrovic, il pallone che rimane lì Mitrovic, attenzione di nuovo col mancino, l'ho detto signori, nulla è impossibile per questo fullman, 3-3, Mitrovic, e manca un quarto d'ora, e manca un quarto d'ora, solo Mitrovic, è stato fortunatissimo però qui, bisogna essere sinceri, andiamo a rivedere il replay, questo primo tiro murato dalla difesa, il portiere si è buttato, il portiere è praticamente battuto, e poi Mitrovic ancora a cercare quell'angolino, sempre col mancino, è 3-3, palle in mezzo, Roda che finisce qui, per come è andata la partita signori, va bene così, sembrava impossibile andarla a recuperare, avessimo fatto questa partita dell'episodio scorso, l'avremmo sicuramente persa, e invece arriva il pareggio, arriva il pareggio che, non fa comunque benissimo la classifica, ma fa bene al morale, perché questa squadra, dopo la vittoria ottenuta, nell'ultima partita, in questa, riesce appunto a rimontare, a trovare un bel punticino, che ripeto, non è bello per la classifica, ma è bello per il morale, ha iniziato male la stagione, ma il Fulham sembra essere in ripresa, perché quest'oggi abbiamo ottenuto una sconfitta, una vittoria, e un pareggio, e direi un bellissimo pareggio, perché ha ottenuto il rimonto, ha ottenuto dopo, che negli ultimi 20 minuti, eravamo sotto ancora di due gol, perché questo dato era, momentaneamente sul 3-1, e poi, Mitrovic e Reid, hanno promesso al Fulham, di portare a casa almeno un punticino, confermiamo la formazione, che ha battuto il Birmingham, e speriamo di ritrovare anche Sesco, che da un po' che non segna, allarga molto bene per Wilson, attenzione a questo pallone di ritorno, proprio per Sesco, 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 dentro l'area Sesco, di nuovo Sesco, e c'è il gol di Sesco, l'abbiamo chiamato, un pochino l'abbiamo chiamato, questo gol di Sesco, voilà, 1-0 Fulham, Tete, decide di non allontanare, perché alla fine, diversi giocatori del Bristol sono lì, allora, avanziamo su quella fascia, Wilson Tete, mi sembra nome e cognome, invece sono due giocatori diversi, intanto attenzione a questa palla per Sesco, e Bent li salva, forse potevamo avanzare ancora un po', ma interessante questa giocata, in confusione adesso il Fulham, un po' in difficoltà in questi ultimi minuti, ed eccolo il gol, da parte del Bristol, ma c'è tempo, gol che si poteva, si doveva evitare, andiamo a rivedere un attimino il responsabile di questo, di questo gol, forse chiusura in ritardo da parte di Komar, e da una posizione non impossibile, Martin ha provato appunto questo tiro violento, direttamente all'incrocio dei pali, in sofferenza il Fulham, questo finale di primo tempo, allora, corner, Quina, Quina adesso potrebbe anche pensare di andare da solo, e ci si va dalle parti di Wilson, non è Sesco e Wilson, allora si accende, si accendono le speranze, per il Fulham, Quina, 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 2-1, festa grande del Fulham, primo gol in questa stagione in contropiede, non ne avevamo mai fatti in contropiede così diretto, da palla inattiva degli avversari, meno male che non era Sesco il giocatore più avanti, ma era appunto Wilson, che ci ha offerto quindi di continuare a mantenere quei ritmi, quella velocità, Wilson non poteva andare lì da solo, perché stava arrivando il difensore che lo stava accompagnando sull'esterno, palla centrale per Quina, si è inserito molto bene, e si passa nuovamente in vantaggio, allora si soffre fortissimo, si aprono gli spazi, non ci credo, Britton, non ci posso credere, perché Rodak la deviata, perché Rodak la deviata, che era praticamente fuori quella palla, perché Rodak la deviata, calcio d'angolo, attenzione, la palla che rimane lì, la palla che rimane lì, bisogna allontanarla ragazzi sta palla, bisogna allontanarla Wilson Quina, perché la manda lì indietro Quina, perché la manda lì indietro, non ci credo se subiamo, mamma mia, via quella palla, Raid, finisce qui, finisce qui, tre punti, una sofferenza incredibile, ma il Fulham finalmente, un minimo di continuità, la sta mostrando, perché nelle ultime tre partite, sono sette punti, sudatissima, dice la chat, è giusto così, sudatissima davvero, perché veramente, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo di, di soffrire così tanto, ma contento che sono arrivati appunto, altri tre punti, importanti per il nostro campionato, quattro punti di stacco dalla zona playoff, e ufficialmente, dieci punti di stacco dal primo posto, e otto punti di stacco dal secondo, che comunque ci manderebbe, direttamente in Premier, insomma il campionato è lungo, la classifica è cortissima, ma finalmente questo Fulham, si è ufficialmente, sembra essersi perlomeno, ufficialmente ripreso.